Occhio al calendario dei tradizionali cartelli in strada. Dal lunedì 8 giugno Chimambiente Amiù riprenderà lo spazzamento meccanico notturno. Terminato il blocco totale, l'azienda sta progressivamente ripristinando le attività sospese a causa dell'emergenza sanitaria. Lo spazzamento meccanico era stato sostituito dall'igienizzazione di strade e marciapiedi tramite lance d'alta pressione, attività che non prevedeva lo spostamento delle auto, difficilmente attuabile con la quarantina in corso. Rientrata l'emergenza invece i cittadini potranno tornare a spostare le auto dalle zone mensilmente interessate dal servizio, poiché contestualmente alla ripresa ci sarà anche la rimozione notturna dei mezzi in divieto di sosta. Insieme alla pulizia locale e all'assessore Gianni Cataldino, ha spiegato l'assessore Paolo Castronovi, abbiamo definito le attività da porre in essere per ripristinare il servizio. Fondamentale anche per questa ripartenza sarà la collaborazione dei cittadini, ci appigliamo al loro buonsenso affinché la rimozione sia davvero l'opzione più remota. Il calendario dello spazzamento meccanico notturno è consultabile sul sito istituzionale di Chima Ambiente Amio all'indirizzo www.amiutaranto.it, un necessario promemoria per non lasciarsi sorprendere dalle operazioni di pulizia notturna.